Lo sport giocato e praticato è fermo ormai da due mesi, non si sa ancora bene quando potranno riprendere però di certo una cosa che non si fermano sono le trattative di mercato e la Formula 1 non fa eccezioni dunque facciamo un video extra rispetto alla programmazione del mio canale con un ritorno dei video in format tradizionale però non analizzeremo un post-gar o una partita di baseball, analizzeremo una trattativa che come dice l'articolo di Formula Passion è più un braccio di ferro e mi riferisco a quello che sta succedendo tra Sebastian Vettel e la Ferrari Sebastian Vettel è in scadenza nel 2020 al termine di questa stagione, sempre se si correrà anche lì ci sono delle ipotesi che si dovrebbe partire a luglio in Austria, anche lì tutto da vedere ma nel caso ne parleremo in un prossimo video e il futuro in rosso di Vettel è veramente in bilico anche perché come appunto dice l'articolo di Formula Passion la trattativa più che appunto essere tale è un braccio di ferro anche perché come leggeremo tra poco in un altro articolo sempre di Formula Passion Sebastian Vettel sta facendo un po' il prezioso come se ce l'avesse soltanto lui e ha iniziato già a puntare i piedi andiamo ad analizzare quello che è stato detto dal campione tedesco in una sede di conferenza stampa ho sempre firmato contratti triennali, questa era la dichiarazione fondamentale dell'ultima conferenza stampa di Vettel a fronte della domanda dei giornalisti che analizzavano quella che è stata l'offerta della Ferrari e l'offerta della Ferrari sarebbe stata questa, un rinnovo annuale quindi con scadenza nel 2021 con uno stipendio ridotto secondo quanto riporta una fonte tedesca di giornalismo Vettel avrebbe definito uno scherzo questo rinnovo proposto dalla Ferrari per quanto mi riguarda è uno scherzo che Vettel già solo contesti una cosa del genere perché visti i grandissimi risultati che ha avuto negli ultimi due stagioni e lo dico da esterno alla scuderia Ferrari è già tanto che la scuderia Ferrari gli abbia proposto un rinnovo anche perché gli errori che ha fatto Vettel nel corso delle due stagioni passate sono abbastanza da già non fare un rinnovo di contratto Vettel voleva fare una stagione importante nel 2020 per avere diciamo il coltato dalla parte del manico visto che appunto è in scadenza definire secondo me uno scherzo questo rinnovo annuale proposto da Binotto e company secondo me è abbastanza un'esagerazione tra l'altro qui non è riportato dall'articolo di Formula Passion ma la proposta di Ferrari nei confronti di Vettel sarebbe quella di un rinnovo annuale di contratto a 12 milioni soltanto fino al 2021 12 milioni che comunque non sono pochi ok che Vettel prima ne prendeva 40 stagione però insomma un rinnovo a 12 milioni ok per un anno solo di certo non sono briciole Vettel però comunque si è indispettito e avrebbe rifiutato e respinto al mittente l'offerta un'offerta che ripeto per me è anche fin troppo nel senso che gli errori di Vettel che ha fatto nel corso della stagione passata sono stati veramente tanti e troppi il più emblematico sicuramente fu Monza 2019 dove si girò da solo alla curva Ascari al sesto giro con la gomma rossa a inizio gara rovinando anche la gara dei poveri Lance Stroll e Pierre Gasly che oggettivamente centravano veramente poco anche in Bahrain nello stesso anno fece un errore nel senso che si girò in un duello affiancato con Hamilton ne contiamo anche altre per esempio la più emblematica di tutte Hockenheim 2018 che è il primo di Germania Vettel era primo, straprimo, iperprimo con 20 secondi a pass di vantaggio sul secondo Vettel sull'acqua andò direttamente a muro nella curva verso sinistra del motorhome e si schiantò di fatto regalando la vittoria a Hamilton Vettel comunque è un pilota che era arrivato in Ferrari con lo status di 4 volte campione del mondo un 4 volte campione del mondo che ha vinto mondiali con la Red Bull con una macchina veramente fantascientifica e incredibile una macchina che andava veramente su binari un progetto ingegneristico veramente della madonna in quell'anno di Adrian Nui ed era una macchina talmente perfetta che era praticamente impossibile perdere quei titoli del mondo Vettel ne vinse 2 su 4 dominando gli altri due di fatto se la giocò con gli avversari di turno Alonso in particolare nel 2010 lì fu più la Ferrari a perdere l'ultima gara che la Red Bull a vincerlo ma questo è un altro tipo di discorso vedi le grandi strategie del Moretto Ferrari che nel corso degli anni ci hanno sempre fatto ridere e passare alla leggenda e l'altro mondiale appunto se lo giocò sempre con Alonso nel 2012 fu il mondiale più tirato però comunque all'epoca c'era la Red Bull come macchina dominante che veramente era imbattibile nel 2011 quella stessa Red Bull che andava su binari vinse le ultime 9 gare del campionato sempre con Sebastian Vettel e Sebastian Vettel era stato preso dalla Ferrari nel 2015 dopo che è stato preso praticamente a sberloni da Ricciardo nel 2014 con la nomea di quel pilota tedesco come Schumacher che avrebbe vinto il titolo sulla Ferrari come Schumacher e tutto quello che ha portato a casa Sebastian Vettel è una marea di errori vittorie comunque sì ci sono state e due secondi posti nel 2017 e nel 2018 con un Lewis Hamilton veramente ingiocabile perché Hamilton di adesso non è minimamente paragonabile comunque al Vettel della Red Bull anche perché Hamilton per quanto mi riguarda è un ottimo pilota, un campione Vettel è un buon pilota che ha avuto più fortuna che altro più culo che anima tra virgolette rimane comunque un buon pilota Vettel comunque non si vincono quattro titoli del mondo completamente a caso la macchina comunque deve andare e comunque qualche merito della Red Bull 2010-2013 l'ha avuto anche lui per il resto comunque è un pilota che a me non ha mai fatto impazzire più di tanto è comunque un buon pilota che ci può stare in Formula 1 che però dovrebbe un attimo come dire smettere di essere così tanto presuntuoso perché sembra che sia veramente lui l'unico campione del mondo in giro in circolazione che meriterebbe un trattamento datale in ogni caso la Ferrari gli ha fatto questo rinnovo probabilmente per un ruolo di seconda guida evidentemente sotto Charles Leclerc che è il pilota su cui la Ferrari deve e dovrà puntare negli anni a venire Leclerc è un pilota che ha dimostrato molto in stagione passata nel 2019 battendo sistematicamente Sebastian Vettel Leclerc è sicuramente un talento su cui investire di certo non arrivano due vittorie a Spa, Franconchamp e Monza per caso e Vettel dovrà fare un po' quello che ha fatto Raikkonen con Vettel ovvero un pilota esperto, una seconda guida che potrà allevare un futuro campione in questo caso Charles Leclerc e poi evidentemente dedicarsi ad altro ricordiamo che comunque Vettel quest'anno va per le 33 primavere i 43 anni che comunque non sono pochi onestamente l'atteggiamento di Vettel non lo trovo molto rispettoso lo trovo abbastanza da prima donna Vettel è sempre stato un pilota molto fumantino molto nervoso che sotto pressione sbaglia che deve andare tutto bene tutto alla perfezione altrimenti va tutto male ed è un disastro vedi il primo anno di Red Bull con Ricciardo che era praticamente un rookie e di fatto lo battè sistematicamente e qui di fatto si sta riverificando la stessa cosa Vettel appunto era arrivato in Ferrari con la nomea di quattro volte campione del mondo sopravvalutato per me ci sono piloti che hanno vinto molto meno e sono molti più bravi Alonso, Rosberg, Button per esempio ha fatto quello che ha fatto in Ferrari ha portato la Ferrari a vincere dopo di fatto una stagione senza vittorie in Malesia ed è sicuramente un merito per il brato tedesco ha fatto comunque tantissimi altri errori li ho già elencati Okina in Bahrain anche Austria dove di fatto fece esplodere delle gomme con una strategia veramente orrenda e imbarazzante e sono più le delusioni secondo me che i pro per quanto riguarda la gestione di Vettel in Ferrari ora ma letto che si parla di rumor si parla di ipotesi e c'è ancora tutto da definire però la proposta rifiutata da Ferrari da Vettel scusatemi è una cosa abbastanza concreta e qui si pone la domanda chi potrebbe essere il pilota su cui investire il secondo ruolo in guida Ferrari potrebbe essere dicono Daniel Ricciardo pilota che anche lui è in scadenza nel 2020 in uscita da Renault anche se questo andrebbe a collidere col fatto che c'è una penso regola non scritta qui informatemi voi chiunque sia tifoso della Ferrari più esperto di me e vada a informarsi un pochino meglio su questo aspetto che per tradizione la Ferrari deve avere un campione del mondo in squadra Ricciardo non è un campione del mondo e anche gli altri nomi che si fanno non sono campioni del mondo perché gli altri piloti che dovrebbero e dico dovrebbero sostituire Vettel qualora il tedesco rifiutasse definitivamente il contratto nuovo sarebbero Antonio Giovinazzi che è un pilota cresciuto dalla Ferrari Driver Academy sarebbe la valorizzazione del sistema giovanile che sta portando tantissimi talenti in Formula 3 e soprattutto in Formula 2 in questo 2020 e l'altro nome non me ne vogliano è Carlos Sainz e onestamente Ferrari non mi rompete i coglioni con Carlos Sainz per una volta che noi della McLaren abbiamo un team giovane con piloti interessanti non ha senso privarci di uno dei due piloti che abbiamo già c'è Norris che di fatto non è della McLaren volete rubarci pure Sainz insomma la McLaren poi da chi dovrebbe ripartire questo è un grande problema quindi per una volta che noi della scuderia arancione abbiamo due piloti buoni per favore per un po' lasciateceli onestamente dovessi scegliere io da fossi uno del management della Ferrari punterei sulla scelta di valorizzare le giovanili e i piloti giovani la Ferrari Driver Academy in questo caso io metterei un Antonio Giovinazzi come palese seconda guida perché Giovinazzi qualora un domani arrivassi in Ferrari a oggi è una clamorosa seconda guida per quanto mi riguarda ciò non significa che sia un pilota tutt'altro che fermo Giovinazzi è uno che in Formula 2 per esempio ha quasi vinto il titolo contro Gasly perso all'ultima giornata praticamente Daniel Ricciardo è un nome interessante anche se secondo me per Ricciardo servirebbe un team ufficiale un po' più concreto considerato che ancora al momento non si sa che cosa si possa fare in questa stagione 2020 io onestamente ripeto premerei le scelte delle giovanili e valorizzare la FDA quindi Giovinazzi il fratello di Leclerc che un domani arriverà anche in Formula 1 al fianco appunto del Monegasco Leclerc una coppia giovane con una palese prima guida Charles Leclerc e una seconda guida che si può comunque valorizzare e dimostrare che si può stare in Formula 1 fossi in Fettel io mi guarderei bene dall'essere prima donna e dall'essere ancora così presuntuoso da certi punti di vista ma voi che siete voi dalla Ferrari guarderete mai questo video fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto è già tanto secondo me che la Ferrari ha rinnovato o ha meglio proposto un rinnovo a Sebastian Fettel che dovrebbe ringraziare accettare e punte basta evidentemente non è così perché Sebastian Fettel ha un ego clamoroso incredibile che potrebbe dimostrarlo anche in pista ma evidentemente è bravo a farlo soltanto fuori in ogni caso la mia opinione ve lo data sarebbe importante secondo me anche sapere le vostre opinioni sapere dunque che cosa ne pensate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto in descrizione ci sono anche gli altri miei canali su youtube il canale musicale e anche la pagina facebook se volete rimanere sempre aggiornati il saluto da parte di Matti Torg e ci vediamo dunque in un prossimo video